Non dimenticare il dottore Geppino Micheletti, medico dell'ospedale di Pola, che dopo l'ecidio di Vergarolla dell'agosto 1946 continuò a operare i feriti e a salvare decine di vite, nonostante gli fosse giunta notizia della morte in quella spaventosa esplosione dei suoi due figli piccoli di altri familiari. Domani, 26 marzo, a partire dalle ore 16.30, nell'aulamagna dell'ospedale civile di Pescara, il ricordo voluto dalla ASL di Pescara. Operò consecutivamente per 48 ore prestando assistenza alla popolazione martoriata da questo scoppio tremendo. Questo evento lo spetiamo all'ASL di Pescara perché riguarda non solo l'istriano ma anche il medico. E quindi vogliamo ricordare che questa professione è prima di tutto una professione che implica una vocazione e una predisposizione per chi sta male e per l'altro. E nasce quindi l'esigenza di sottolineare questo aspetto della professione medica, che è prima di tutto la volontà di soccorrere e aiutare gli altri. L'occasione è anche utile per riportare alla storia una memoria negata, che è quella dell'esodo della popolazione Giuliano Dalmata, che ha pagato per tutti il peso della sconfitta nella guerra. Questa popolazione ha perso tutto, ha perso i propri beni, la propria terra, la casa. Ha subito le persecuzioni titine, violentissime. Infatti la strage di Vergarolla si inquadra anche in questa dinamica persecutoria, perché dopo questa strage la popolazione di Pola per il 90% abbandonò la città e scelse la via dell'esodo. Recuperare la memoria di un evento, quello dell'esodo Giuliano Dalmata, che per tanti anni, tanti decenni è stato dimenticato e riportato alla luce solo con la legge del 2004, istitutiva del giorno del ricordo.